Un sedicenne di Santa Elisabetta, piccolo centro in provincia di Agrigento, è rimasto ferito seriamente al piede sinistro dopo essere rimasto impigliato nel macchinario utilizzato per la smallatura delle mandorle, ossia quel procedimento che serve eliminare la parte molle che avvolge la mandorla dal mallo. Vista la gravità della situazione è stato disposto il trasferimento del giovane studente in elisoccorso a Palermo. Il ragazzo stava aiutando il fratello, titolare di un'impresa agricola, quando ha avuto l'incidente. Sulla dinamica dell'incidente stanno adesso indagando i carabinieri.